I miei amori, i miei amori, venite qui un momento, ma siete frizzati, aspetta, aspetta, voglio dirvi una cosa, mi sento quasi di troppo perché è stato così talmente bello, bravo Massimo, è stato un grandissimo padre, è una persona di cui io sono proprio fiera, allora l'emozione di vedervi insieme, mi sento con me di troppo e invece sono molto felice di essere qui, Paolo che te sei fatto ai capelli? Non fare intervenire Zecchila, mai sui tuoi capelli, fermo, ti devo parlare, ti devo parlare, lui ha parlato troppo, non ha mai parlato così tanto in vita sua, Hai frizzato, io sento il rumore del frizzato, allora c'è stato un sabato del festival di Sanremo, che stava a guardare il festival, cambio canale e ho visto Love Story, hai agguantato la nuca di una ragazza bionda e bella e gli hai dato un bacio e ho detto è un film o è vero, poi ho detto no è vero, io mi vergognavo, chi va mai guardato a te Andrea quando amoreggiate? Quanto che ho pensato io? No, ma io non sbircio e da quel momento non posso più guardare il grande fratello perché state sempre lì e poi di notte, cucchi bianchi e neri, amore ci sono migliaia di persone che si danno appuntamento perché vogliono vedervi, allora pensaci a sta cosa.